La vita è tutto un problema da risolvere, queste sono le parole del grandissimo filosofo della scienza Karl Popper di inizio novecento, i problemi. Cosa è un problema? Perché quotidianamente noi siamo abituati a risolvere problemi, quelli più semplici, quelli più complessi, ma la domanda è cosa è un problema? Se io vi facessi questa domanda probabilmente le risposte sarebbero un problema è qualcosa che mi sta bloccando, il problema è qualcosa che mi sta facendo soffrire, è qualcosa che mi impedisce di raggiungere un obiettivo. Tutte risposte potenzialmente corrette. Vorrei proporvi però una definizione un po' alternativa, un po' diversa. È la definizione che il grandissimo psicologo Paul Watzlawick scrive in un libro, il libro si chiama Change. I problemi esistono poiché esistono le soluzioni ai problemi. quindi noi abbiamo i problemi poiché abbiamo le soluzioni. E allora una situazione che non ha una soluzione ma che ci sembra un problema come si chiama? Si chiama dato di fatto. Vi faccio un esempio, un esempio un po' pesante, ontologico. La morte. La morte è un problema o un dato di fatto? è un problema per chi rimane. Ma la morte è un dato di fatto. Una potenziale malattia, ovviamente stiamo generalizzando, se ha la cura è un problema. E allora noi in occidente siamo abituati a cercare le cause dei problemi per risolverle. Ecco questo probabilmente è un mito. Noi siamo abituati a culturalmente. Un vostro amico vi dice, oggi sono triste. La prima domanda che vi viene da fare è perché sei triste? Cos'è successo? Ecco, iniziano i problemi, nel risolvere i problemi. Nel momento in cui noi cerchiamo le cause dei problemi, automaticamente il nostro processo di soluzione dove va? Va nel passato. Quanti di voi sono in grado di cambiare il passato? Forse il buon Dio ci riesce a cambiare il passato o la percezione che abbiamo del passato. E poi c'è un altro problema. Se noi identifichiamo una causa, in realtà per andare ancora più in profondità dovremo identificare la causa che ha generato la causa che ha generato il problema. E allora ci sarà anche una causa che ha generato la causa, che ha generato la causa, che ha generato il problema. Il processo è infinito. Quando ci fermiamo? Ci fermiamo in due momenti. Quando in maniera arbitraria pensiamo che abbiamo trovato la causa, quindi interpretiamo, o quando qualcuno ha interpretato per noi, quindi quello che viene chiamato nella scienza teoria forte di riferimento, credo quello che è l'interpretazione di un altro soggetto, mi diventa la verità. Non è una verità epistemica, è una prospettiva. E allora cosa succede? Succede che nel momento in cui noi andiamo a cercare le cause nel passato, il passato non lo possiamo cambiare, ma accanto alla causa c'è sempre un altro soggetto, c'è il colpevole. Ora vi faccio un esempio. Poco tempo fa ero a insegnare in Sud America, in una delle nostre sedi, e parlando di queste cose un nostro allievo ci disse, facciamo un esempio. E gli dissi, ok, qual è il tuo problema? Arrivo in ritardo al lavoro. Perché arrivi in ritardo al lavoro? Arrivo in ritardo al lavoro perché io la mattina non riesco ad alzarmi presto. Perché non riesci ad alzarti presto? Non riesco ad alzarmi presto perché sono stanco e vado la sera a letto tardi. Perché vai a letto tardi? Perché lavoro troppo. Ci fermiamo qua. Quindi ti arrivi tardi al lavoro perché lavori troppo. Ma non è sufficiente, andiamo ancora più in profondità. Perché lavori troppo? Perché ho dei mutui da pagare. Quindi ti arrivi tardi al lavoro perché hai dei mutui da pagare. Questo che cosa ci porta a comprendere? Che identificare la causa, per quanto abbia una logicità, se noi associamo la causa al problema, diventa una connessione assurda. E questo è un bel problema. E allora vi propongo una prospettiva diversa che ovviamente deriva dalla tradizione del centro di terapia strategica, di tutta la terapia breve strategica, trasformare la domanda perché nella domanda come funziona un problema. Perché se voi avete un problema nel momento presente vuol dire che c'è qualcosa che lo mantiene nel momento presente, che non è l'origine del problema. Perché l'origine, la genesi, è dato inizio. Ma se voi continuate ad averlo nel momento presente vuol dire che c'è qualcosa che lo nutre. Quello che viene chiamata persistenza del problema. E allora a palo alto in California negli anni 60 hanno individuato che i problemi si mantengono nel presente poiché il soggetto cerca di risolverli. Sembra una contraddizione. Ovvero i tentativi che il soggetto mette in alto per risolvere il problema, se non funzionano, diventano tentate soluzioni. La tentata soluzione, se è irrigidita, se è reiterata, non solo non risolve il problema, ma lo mantiene e lo fa peggiorare. Facciamo un esempio. Pesco l'esempio dal mio mondo che è quello della psicoterapia. Pensate ad un attacco di panico. Chi ha vissuto gli attacchi di panico sa molto bene che il soggetto a un certo punto inizia ad avere paura, ha una percezione fobica, ha paura di qualcosa e il corpo reagisce in maniera corretta. Dalla paura che sente il corpo si attiva, inizia a sentire il cuore che inizia a pompare di più. È una reazione correttissima, perché davanti a un pericolo se non ci attiviamo fisicamente non possiamo né scappare né combattere. Ma il soggetto che ha avuto paura ha ancora più paura e quindi cerca di controllare la sua reazione. Provate a controllare il battito cardiaco? Sicuramente l'unico risultato che ottenete è che lo alterate. Quindi si altera un parametro fisiologico, quello che accade è che la respirazione cambia. Quindi il tentativo di controllare fa perdere ancora di più il controllo. Il soggetto si spaventa ancora di più perché sente che la respirazione si abbassa o diventa breve, inizia a sudare, prova a controllare tutto questa cosa, questa reazione che è incontrollabile, il fatto di volerla controllare coincide col fatto che perde il controllo. Attacco di panico. Spostiamoci sul versante manageriale. Il manager che non si fida del collaboratore, perché un collaboratore non sta facendo bene le cose, ha dei compiti importanti, se delega al collaboratore, il collaboratore rischia di sbagliare, quindi si sostituisce al collaboratore e lo fa lui. Ma sostituendosi cosa succede? Il collaboratore diventerà sempre più incapace. Quindi la prossima volta che il manager dovrà delegare qualcosa si chiederà ancora meno, andrà a sostituirsi nuovamente rendendo il collaboratore ancora più incapace e mantenendo il circolo vizioso. Di nuovo il tentativo di gestire la situazione coincide col fatto di avere il problema. Ultimo esempio, l'esempio nel mondo della performance. Pensate agli atleti che per fare bene il gesto tecnico ci pensano, si sforzano cognitivamente di pensarci o un artista o un cantante nel momento in cui pensa volontariamente quello che deve fare per farlo bene si blocca. Se va bene non arriva a ritardo. Se va bene stona, se va bene il musicista ha le dita bloccate. Se va male ancora peggio. Quindi vedete che noi abbiamo i problemi perché cerchiamo di risolverli. E allora la domanda diventa ma com'è possibile che l'essere umano sia così mal costruito? Come se avesse un difetto di fabbricazione? Perché se una cosa non funziona dovrei cambiarla. Se una cosa non funziona dovrei sostituirla. Noi ci muoviamo per schemi, il che significa che voi fate certe azioni poiché hanno funzionato nella vostra vita. Il problema è che cambiando soggetti, cambiando situazioni, cambiando ambiente. Non è detto che quella strategia funzioni nel nuovo ambiente, con la nuova persona. Questo in me coincide col fatto che noi siamo vittime dei nostri successi. E allora per cercare di risolvere un problema dovremmo ragionare in maniera completamente differente. Dovremmo chiederci come funziona dovremmo analizzare i nostri tentativi di risolverlo. E allora mi piacerebbe donarvi una tecnica. Una tecnica che ovviamente è stata strutturata da il maestro del mio maestro Paul Watzlawick e poi perfezionata dal mio maestro che è Giorgio Nardone sia in ambito terapeutico che di coaching che è completamente controintuitiva. Pensate ad un problema e anziché chiedervi cosa posso fare per migliorarlo? Chiedetevi cosa posso fare per peggiorarlo? Cosa posso fare volontariamente per peggiorare la mia situazione? Cosa posso fare volontariamente per aggravare quello che sto vivendo? Scrivete tutto quello che vi viene in mente e poi con una bella penna rossa iniziate a sottolineare quello che vi è già capitato di fare. E farete una scoperta molto interessante. Inizierete a sottolineare tante cose rispetto a quelle che avete scritto, scoprendo che magicamente state peggiorando il vostro problema senza rendervene conto. E allora quale sarà poi il processo di soluzione? Prendere ogni tentata soluzione, modificarla, sostituirla o rovesciarla. Il funzionamento del problema cambia, il cambiamento è una soluzione. Non tutte le soluzioni sono un cambiamento. Però state tranquilli che se volete risolvere una cosa, quella cosa in qualche modo deve cambiare. E allora mi piacerebbe lasciarvi con un concetto importante. L'impossibile può diventare possibile. Dipende tutto da voi. C'è una bellissima frase di un pensatore britannico, uno scrittore Aldous Huxley, che recita la vita, la realtà non è ciò che ci capita, ma ciò che facciamo con quello che ci capita. A me piacerebbe parafrasarla un po' e visto il tema di oggi, dargli una connotazione un pochino più profonda. La vita non è ciò che ci capita, ma ciò che decidiamo di essere con quello che ci capita. Grazie.